Brescia blindata dalle forze dell'ordine oggi per la presenza in città della ministra dell'integrazione Cecil Chieng è impegnata in un convegno sull'immigrazione. I rappresentanti della destra, come avevano annunciato ieri, non hanno voluto incontrare la ministra perché da sempre non la ritengono adatta a ricoprire un incarico di governo così impegnativo e per protesta sono rimasti fuori dall'auditorium dove si svolgevano i lavori. Siamo qui per difendere i diritti degli italiani che in una città come Brescia, che ha la più alta percentuale di stranieri, rischia di subire un razzismo contrario, ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia Viviana Beccalossi, mentre il consigliere regionale della Lega Fabio Rolfi ha detto che la ministra è pericolosa per le sue idee di apertura indiscriminata agli stranieri. Tutto è filato liscio fino a quando in piazza non sono arrivate alcuni esponenti dei centri sociali che insieme a un folto numero di immigrati hanno cominciato a contestare gli esponenti della destra. Il clima è diventato pesante al punto che è dovuto intervenire la polizia per evitare il peggio. Sui cori conto la sua persona all'esterno dell'auditorium e la ministra si è limitata a dire che ognuno ha bisogno di farsi ascoltare e lo fa a suo modo. Il mio impegno ha detto è quello di portare la voce del territorio a livello nazionale e impegnarmi per le politiche di integrazione, ma per fare questo ha sottolineato che occorrono anche risorse. Bisogna applicare le linee guida per l'integrazione e a Brescia il problema si sente in modo particolare. Sono gli stessi migranti, ha detto ancora, che parlano di vera emergenza sociale.